Sembra di gioco urbata, fai lo stesso sudore. Le hai messe tu le luci Fabio? Fa caldo le luci. Hai fatto morire Luciano e l'almone adesso? Si attacca e si vedono gli addominati. Via la camicia. Mi si vedono gli addominati. E il addominale. Ahem, ahem, ahem. Grazie. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.